Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere la mia vera faccia Allora, ieri Ettorex VGK, che era un mio amico, ha fatto vedere la sua e anche la sua vera voce A me conoscete però la vera voce dal secondo video Invece quella di Ettorex non la conoscevate e manco la faccia Adesso tocca a me far vedere la mia faccia Spero che questo video vi piaccia Adesso ecco a voi la faccia Come mi aspettavate? Aspetta che vado qua Beh, io sono questo, vedete? Questo So così e domani dovrebbe uscire il video del villaggio in Sardegna Dovevo fare uscire un video però che non si è caricato perché io ho mollato Quindi vedrete prima questo di tutti E quindi se ci accere vedrete questa Dopo se mi chiedete se io faccio finta di avere questa voce No, perché questa è la mia vera voce E invece vi faccio alcune voci strane Ciao Io chiamo Lorenzo Fisetta Ho dieci anni E raga Tutti quelli che guardano Prima del 18 febbraio 2021 Voglio che arriviamo a 22 iscritti Fatemi questo regalo Ok? Intesi? Guardatemi bene Intesi? Sì? Ok, bene Ciao Ciao